Le autorità sanitarie hanno prelevato 8 cani dall'appartamento in cui la ziana è stata aggredita e li hanno trasferiti in canile. Bocciata dalla Corte Costituzionale la norma regionale che assegna gli alloggi pubblici solo a chi vive in Veneto da almeno 5 anni. Controlli della Guardia di Finanza in locali, bar e ristoranti, il bilancio di decine di lavoratori in nero o irregolari. Udienza preliminare per una presunta violenza sessuale che ha coinvolto un infermiere o una studentessa, l'uomo rischia il processo. Altri 4 d'aspo nei confronti di Ultras Catanesi dopo gli scontri allo Stato di Uganio del 19 marzo, i provvedimenti salgono così a quota 31. Pericoloso avvallamento lungo la Val Sugana, sopra luogo urgente della provincia, i sindaci invitano i cittadini a trovare percorsi alternativi. Turismo e territorio dell'Alta Padovana, la Federazione del Campo San Pierese sceglie un nuovo sito per essere sempre più attrattiva nei confronti dei visitatori. Buongiorno, benvenuti al Tg di Tele Nord Est. Apriamo questa edizione con la vicenda dell'anziana donna sbranata dai suoi cani perché ci sono delle novità. Ce le racconta in diretta Federico Fusetti che è per noi sul luogo in cui questi cani erano, ma insomma pare che non ci siano più. Cos'è successo Federico? Sì, buongiorno a Ferdinando, buongiorno ai telespettatori, buongiorno anche da Federico Cibotto che è qui con me. È successo che i cani questa mattina sono stati prelevati dall'abitazione di Mortise, qui siamo alla periferia di Padova, e sono stati portati in un canile dell'autorità sanitaria. Sì, pareva nelle scorse ore che i cani potessero rimanere in questo appartamento, invece poi sono state fatte evidentemente delle valutazioni per cui c'è stato il trasferimento, un'operazione che è durata un paio d'ore questa mattina, con Cristian Roccaiende e Francesco Latai abbiamo documentato, quindi abbiamo le immagini di questi momenti. C'è da dire che i cani erano otto e non un numero inferiore, come si era detto, cinque, sette, alla fine il numero preciso è appunto di otto cani. La donna rimane sempre purtroppo in ospedale, in condizioni gravi anche se non in pericolo di vita e poi ci sarebbe anche un risvolto giudiziario, nel senso che ora sarebbe indagata la figlia della donna, ovviamente sempre parlando della gestione di questi animali, ma insomma abbiamo riassunto un po' tutto quello che è accaduto nelle ultime ore in questo servizio, che vediamo insieme e con l'occasione ti restituisco anche la linea, Ferdinando. Eccolo i cani che hanno aggredito un 83enne padovana all'interno della sua abitazione di Mortise, nella periferia di Padova. I cani, che in realtà sono otto, sono stati prelevati dalle autorità veterinarie e portati via dall'appartamento. Un'operazione che si è protratta per un paio d'ore e ha visto impegnati i carabinieri, della Polizia Provinciale e i veterinari dell'Ulss. La prima ad uscire è stata Kira, che è stata anche offerta in regalo su un sito di commercio online. Un'operazione portata a termine in sicurezza con gli animali trasferiti nelle strutture veterinarie in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione sulla loro sorte. Intanto sul fronte giudiziario risulta indagata la figlia dell'83enne per lesioni colpose gravissime e malgoverno di animali. C'è infatti da chiarire la dinamica e che cosa abbia fatto scattare l'aggressione che pare si sia consumata quando la postina ha suonato il campanello, sentendo poi le stesse le grilla della vittima lanciando l'allarme. L'anziana, che ha subito lesioni gravissime e che ha perso entrambe le braccia ed è ancora ricoverata in ospedale, era stata soccorsa dai carabinieri di Padova che entrati nell'appartamento hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, hanno allontanato i cani e chiamato subito i soccorsi. Trasportato ad urgenza in ospedale ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Tra le ipotesi che stanno serpeggiando in queste ore ha anche la possibilità che nell'appartamento ci fosse un allevamento abusivo di cani. Allora, se arriveranno novità riguardo a questa notizia ve le daremo nel corso della nostra informazione, ma adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare di inguinamento perché la situazione non è proprio buona in Veneto. La situazione è grave, è grave anche se andiamo a guardare le centraline non del cittacapoluogo che spesso sembra non esistano, in realtà ci sono anche quelle ed hanno dati preoccupanti anche le centraline così definite rurali da ARPAV, cioè quelle che sono collocate in aree non densamente abitate. Essere sul podio questa volta non ha niente di meritevole, anzi, il Veneto è maglia nera per gli sforamenti di PM10. Da gennaio a marzo 2024 sono già otto le città italiane fuori leggi per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo. A rivelarlo sono i dati sulla qualità dell'aria diffusi dalle gambienti in occasione della giornata della terra. La metà di queste otto città sono Venete. La prima è proprio Verona con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell'anno, seguita da Vicenza con 41, Padova 39, all'ottava posizione Venezia con 36. Al limite c'è Treviso con 35 giorni di sforamento e Rovigo con 34, dunque si salva solo Belluno. Non possiamo affidarci ovviamente al meteo, alle condizioni di pioggia piuttosto che di neve per essere felici, tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo la qualità dell'aria migliora troppo lentamente rispetto alla condizione orografica di questo territorio che chiaramente mette in difficoltà i cittadini per l'aria che respirano e serve quindi agire non solo sul meteo, perché non dipende da noi, ma agire su tutte quelle fonti di inquinamento che possiamo normare, ripeto, partendo dal traffico urbano che ovviamente va ridotto, incentivando la mobilità ciclabile, le zone 30, le strade scolastiche piuttosto che il trasporto locale che deve essere supportato adeguatamente. A Venezia, Padova e Verona ci sono state anche giornate in cui lo sforamento ha raggiunto una quota doppia rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo. Purtroppo è un miglioramento troppo lento, non possiamo cantare vittorie, insomma, se respiriamo molto meglio di 15-20 anni fa, ma ancora non abbastanza bene da garantirci una riduzione degli impatti sanitari che ovviamente gravano sulla nostra salute e sull'aspettativa di vita, ma gravano anche sui costi che andiamo a sostenere come cittadini, perché i costi sanitari in capo alle regioni e ovviamente ai territori sono costantemente in aumento per tutti i danni correlati all'esposizione degli inquinanti atmosferici. A Milano, intanto, il vertice dei sindaci della pianura padana ha firmato un patto per la qualità dell'aria che parte da un assunto essenziale, respirare un'aria pulita è un diritto fondamentale di tutte e di tutti. Nel documento i sindaci chiedono al Governo di rendere disponibili con urgenza investimenti dedicati a ridurre l'impatto sull'ambiente dei trasporti di persone, merci e dell'attività agricole e industriali. Per i sindaci che chiedono un intervento anche dell'Europa servono investimenti anche per il sostegno al trasporto pubblico locale, per la transizione a mezzi elettrici e per incentivare la sostituzione delle caldaie per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Cambiamo ancora argomento alloggi pubblici a chi è in Veneto da almeno 5 anni. ma la norma viene bocciata ed è subito bagarre politica. Edilizia residenziale pubblica, il principio della precedenza ai Veneti si infrange sulla sentenza depositata in queste ore della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma adottata dalla Regione secondo cui requisito per chiedere un alloggio è la residenza nel territorio da almeno 5 anni, anche se spalmati non necessariamente in forma continuativa nell'arco degli ultimi 10 anni. Incostituzionale per la consulta vincolare l'assegnazione alla residenza prolungata nella Regione, condizioni in aperto contrasto con l'aiuto di cui necessita un soggetto in emergenza abitativa. Il presidente del Veneto Luca Zaia prende atto ma non condivide. In Veneto ribadisce abbiamo scelto di premiare chi cittadino italiano o cittadino straniero non fa differenza nella nostra terra a un progetto di vita e non a chi arriva oggi e pretende gli stessi diritti di chi risiede in Veneto da tempo. Io credo che dare un ordine di attribuzione a chi vive nel nostro territorio sia qualcosa di giusto e di sacrosanto. Sarebbe bene che anche il governo legiferasse in questa direzione in modo da fare un po' di chiarezza e attribuire un diritto a chi è nel nostro territorio da più tempo e a chi vive nel nostro territorio è un progetto di vita legato a questa terra. Visione antimeritocratica di un bene prezioso come la casa rincara Villanova ma la sentenza della consulta non meraviglia affatto le minoranze di Palazzo Ferrofini che si aspettavano uno stop. A nostro avviso il provvedimento già quando è stato votato aveva forti criticità e quindi insomma il nostro voto contrario era legato a questo aspetto ovvero anche a quello che poi è stato manifestato dalla Corte Costituzionale una lesione dell'articolo 3 della Costituzione quindi sotto il profilo sostanziale ci deve essere una garanzia di uguaglianza tra tutti i cittadini. Questa è una norma che abbiamo sempre sostenuto che è obsoleta, superata, una bandierina ideologica di un partito che continua a vivere di spot e non affronta i problemi della nostra regione e che è una norma che va contro la crescita della nostra regione e che ci isola e ci decontestualizza su un settore, un segmento produttivo dove dobbiamo essere soggetto a trattore e non estragnarci dal resto del mondo che continua a crescere. Serve una modifica seria della legge sul tema ma servono soprattutto finanziamenti costanti e adeguati alle richieste per andare a coprire anche chi oggi non rientra nelle graduatorie Ater, conclude Elena Ostanel, capogruppo del Veneto che vogliamo, che ha chiesto formalmente all'assessore Cristiano Corazzari di riferire in aula sulla volontà di riformare una legge considerata discriminatoria per le fasce più deboli della popolazione. Passiamo alla pagina della cronaca perché tre giovani padovani sono rimasti bloccati sul massiccio del grappa, si erano spinti verso la vetta di cima grappa appunto con la loro auto che è rimasta bloccata con la neve e sono stati salvati dai vigili fuoco che li hanno raggiunti con un fuoristrada. Tre ventenni padovani avevano raggiunto la montagna per fare un'escursione sulla neve ma rientro l'auto non è più andata in moto. La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso alle 3 di questa mattina per i tre giovani rimasti in panne con la tormenta in corso e con una temperatura esterna ampiamente sotto lo zero. Insomma pare che stiano tutti bene. Ora vediamo invece i controlli nei locali da parte della finanza. Controllo a tappeto della guardia di finanza in decine di bar, ristoranti e locali di intrattenimento in provincia di Padova, specie nell'alta, per controllare le posizioni di chi lavora in questo settore. Il bilancio è di 40 lavoratori in nero e di 16 irregolari. Nello specifico i finanzieri del gruppo di Padova, dopo un'attività di indagine, hanno controllato numerose attività identificando 19 lavoratori in nero, di cui due privi del permesso di soggiorno, impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e 14 lavoratori irregolari assunti con un contratto a chiamata, senza la preventiva comunicazione di inizio della prestazione lavorativa che spetta al datore. E al termine di ispezioni nell'alta Padovana, la compagnia di Cittadella ha intensificato i controlli nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, identificando 4 lavoratori in nero e due collaboratori familiari irregolari, sprovvisti di una propria posizione assicurativa. Nella bassa Padovana, invece, nei pubblici esercizi e imprese nel settore della ristorazione, del tessile e dei servizi alla persona, la compagnia di Piove di Sacco ha individuato 11 lavoratori in nero, mentre la compagnia di Est, 6, nel corso di questi ultimi accertamenti, è emerso come le retribuzioni del personale non regolarmente assunto, minissero corrisposte esclusivamente in contanti. I casi sono stati segnalati anche all'Ufficio Territoriale del Lavoro, per le sanzioni amministrative ricomprese, complessivamente, tra un minimo di 215 mila Euro e un massimo di oltre un milione di Euro. La Guardia di Finanza ha chiesto anche 10 provvedimenti di sospensione delle attività. Salgono a 31 i daspo emessi dal questore di Padovana in confronto dagli ultras catanesi, i protagonisti dei disordini allo Stadio Uganeo lo scorso 19 marzo. Sono stati emersi infatti 4 provvedimenti da parte del questore Marco Odorisio, 1 della durata di 10 anni con l'obbligo di firma, 3 della durata di 5 anni sempre con l'obbligo di firma. Sono stati anche notificati i fogli di via obbligatori della durata di 4 anni nei confronti degli ultras catanesi coinvolti nei gravi fatti avvenuti allo Stadio Uganeo durante la finale d'andata di Coppa Italia di Lega Pro tra Calcio Padova e Catania. Cambiamo argomento, andiamo a vedere l'innovazione tecnologica e gli investimenti da parte delle aziende. Dai robot all'intelligenza artificiale guardano all'innovazione tecnologica con grande interesse gli imprenditori artigiani della provincia di Padova. Secondo i dati del centro studi di CNA Padovero Vigo, che ha interrogato un campione di 130 imprenditori, negli ultimi sei mesi 8 su 10 hanno investito in innovazione. Nel dettaglio il 54% è investito in tecnologia, il 28% in formazione. Di questi oltre la metà hanno un piano di investimenti in innovazione già programmato per i prossimi anni. Sistemi robotizzati e automazione industriale al primo posto tra gli investimenti e poi sensori nei macchinari per la raccolta dei dati e software per la progettazione. Ma il futuro dell'innovazione anche nel settore artigiano si chiama intelligenza artificiale. Due imprenditori su tre la valutano in modo positivo, il 44% molto positivo. Udienza preliminare in tribunale a Padova per una presunta violenza sessuale. È approdata in aula in tribunale a Padova la vicenda che ha visto coinvolti lo scorso dicembre una studentessa di scienze infermieristiche che stava facendo tirocinio in ospedale e un'infermiere quarantenne. La ragazza in piena notte aveva chiamato i genitori raccontando di essere stata aggredita dall'uomo con pesanti avanze sessuali. I carabinieri, chiamati proprio dai genitori, nelle ore seguenti avevano arrestato il quarantenne. Arresti che poi erano diventati domiciliari e dopo ancora obbligo di dimora. Ora l'udienza preliminare con i giudici che nei prossimi giorni decideranno se l'infermiere dovrà affrontare il processo per violenza sessuale, così come richiesto dalla procura padovana. Nel frattempo l'uomo è stato licenziato dall'azienda ospedaliera al termine di un provvedimento disciplinare. Ora i suoi avvocati hanno chiesto di avviare per lui un programma di giustizia riparativa sul quale sarà il giudice ad esprimersi e che consiste in un percorso fatto insieme da vittima e presunto autore della violenza per superare il conflitto e permettere all'infermiere di rimediare al danno causato. Lui ha sempre parlato di rapporti consenzienti. Prossima udienza il 3 giugno. Una notizia di servizio perché con le temperature basse di questi giorni, bene al di sotto della media del periodo, sono molti i comuni e soprattutto quello di Padova che corrono ai ripari e consentono alle famiglie di riaccendere il riscaldamento a casa. Visto che le previsioni parlano di freddo ancora per giorni, la legge consente anche dopo il 15 aprile in condizioni eccezionali come queste di far riaccedere gli impianti di riscaldamento per 7 ore al giorno e fino al 30 aprile di impostarli al massimo fino a 19 gradi. Andiamo nell'alta Padovana per vedere un avvallamento piuttosto grave nella Vaisugana. Acceduto il terreno a circa 3 metri di profondità in una zona instabile con la presenza di una falda acquifera e al lavoro la provincia di Padova per ripristinare la viabilità lungo la strada 47 Valsugana all'altezza di Villa Bolzonella nel territorio di Facca di Cittadella e confini con San Giorgio in Bosco. Dopo il sopralluogo coordinato dalla provincia con la presenza delle amministrazioni interessate e dei consorsi di bonifica, brenta e acque risorgive, si procederà al più presto con un progetto di ripristino. Nel frattempo, lungo la strada, tra le più importanti di collegamento nord-sud, è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo. La provincia ha già chiesto a Veneto strade il nulla osta per evitare il passaggio di mezzi pesanti. Le amministrazioni comunali, per evitare il formarsi di lunghe code nel tratto interessato, consigliano a chi potrà di studiare percorsi alternativi. Restiamo in zona ma cambiamo argomento perché c'è un nuovo sito per la promozione del turismo nel Campo San Pierese. Presentato il nuovo sito internet del turismo nel Campo San Pierese, un nuovo strumento di comunicazione e promozione di un territorio che punta sempre di più al turismo. Un sito che raccoglie le varie possibilità che ci sono nel Campo San Pierese, come diceva appunto nel cuore del Veneto. Speriamo che il turismo lento e non solo raccolga l'invito a visitare le nostre bellezze naturali, culturali e anche business. Quindi sarete benvenuti nel Campo San Pierese. Un territorio fatto da 15 comuni che conta più di 85 mila cittadini, che da sempre è a vocazione produttiva ma cerca nel turismo lento un nuovo modo di raccontarsi. Il Campo San Piero e il Campo San Pierese hanno una natura industriale, una natura produttiva che ha radici profonde su saper fare bene le cose ancora dall'epoca romana. Tuttavia il Campo San Pierese offre anche la possibilità di avere un'esperienza leisure, quindi i cammini, le ciclovie, la ruralità, quindi la possibilità di sperimentare un territorio autentico ancora rurale che consente ancora un'esperienza leggera diciamo di turismo di tempo libero in plein air. Le presenze nel territorio dell'Alta Padovana non sono ancora tornate al periodo pre-Covid, sono però aumentati i giorni di soggiorno dei singoli visitatori, segno delle potenzialità dell'area. Ci sono ville venete, ci sono percorsi turistici, ci sono possibilità di visitare aziende, possibilità di comprendere un po' la ruralità del nostro territorio dal punto di vista appunto culturale, rurale ma anche industriale. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo buon pomeriggio.